L'iniziativa che ho voluto fortemente perché le persone più fragili dopo la pandemia, la guerra in corso, la crisi economica sono quelli che hanno subito più pregiudizi e quindi anche la luce del nuovo piano sociale che abbiamo approvato in Regione, il piano sociale 2022-2024, ho voluto fortemente gli stati generali che non sono stati fatti mai in Abruzzo e quindi ho ritenuto opportuno farli. Per un confronto, un dibattito con tutte le parti interessate a questo settore, quindi l'associazione di volontariato, l'associazione del terzo settore, ci sarà la presenza dell'intero dipartimento sociale della Regione, tante istituzioni e soprattutto ci onora della presenza il ministro della disabilità Alessandro Locatelli che voglio ringraziare. Illustreremo le tante misure che prevedono il nuovo piano che va dalla vita indipendente che quest'anno tra l'altro siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste per un totale di 3 milioni e mezzo, il caregiver che è una figura fondamentale, che è la persona che assiste, la persona fragile a casa. Lì bisogna fare un ulteriore passo, ovvero formarli perché anche in quel caso ci vuole la competenza, ma soprattutto il dopo di noi perché tanta gente, tanti genitori, tante persone care sono preoccupate per la situazione di adesso, ma soprattutto si preoccupano per il dopo e quindi noi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni. Quindi è una giornata importante per l'Abruzzo, per queste persone che spesso vengono dimenticate, invece io voglio che queste persone vengano considerate perché in Abruzzo nessuno deve rimanere indietro. Quindi abbiamo tante sfide che ci asfettano, è un piano sociale nuovo, innovativo, modulabile in base alle esigenze che ci sono sul territorio e soprattutto permette di avere un trattamento omogeneo in tutti i territori. Prima accadeva che tra comune e limitrofi un disabile aveva un trattamento e un altro tipo di trattamento. Questo non deve più avvenire e da questo punto di vista voglio fare questa giornata per ascoltare, per cercare di mettere in campo ulteriori misure per andare incontro a queste esigenze che poi sono le persone più deboli. Nel piano sociale quante risorse sono state impegnate? Abbiamo triplicato le risorse rispetto agli anni passati, c'è una dote finanziaria di 450 milioni. La spesa prograbile per ciascuno abruzzese è passata da 60 a oltre 90 euro. Nel sociale non bastano mai i soldi, però ritengo che questa giunta, questa assessorata abbia fatto uno sforzo enorme. Ringrazio l'intero Consiglio regionale e anche la Giunta che ha supportato questa iniziativa, tant'è vero che il piano sociale è stato approvato all'unanimità. Spero che questi fondi possano dare una certa soddisfazione e anche un'allegria, perché vedere il sorriso di una persona in difficoltà per me è una grande gioia.